Sabato 2 aprile, tentiamo per la terza volta e speriamo che sia effettivamente la volta buona quella di riportare in centro quello che era originariamente il galà del carnevale che poi si è trasformato per tutte le vicissitudini meteo che sono accadute nelle due occasioni in cui avremmo voluto organizzare la festa e l'abbiamo chiamata festa di primavera. Quindi sarà un pomeriggio all'insegna di tanti bambini e di tante famiglie che nell'impianto originario nell'idea originaria che era quella di febbraio attraverseranno le vie e le piazze del nostro centro storico per poi arrivare in piazza della libertà dove ci saranno giochi per tutti i bambini presenti e delle premiazioni. La cosa interessante e nuova rispetto a quanto abbiamo già impostato negli scorsi mesi è che si è aperto un dialogo e una collaborazione con i commercianti del centro storico alcuni commercianti della città principalmente tra i quali ci sarà uno scambio di doni tra i bambini e gli esercenti proprio per creare questa sinergia e questo contatto di cui c'è tanto bisogno e che abbiamo dovuto abbandonare per tutte le note vicissitudini che sappiamo e che conosciamo bene. Questo è soltanto un piccolissimo anticipo di quello che abbiamo discusso e condiviso nella riunione dei commercianti della scorsa settimana da qui in avanti avremo una programmazione completa che presenteremo molto volentieri a tutta la città. Intanto sabato 2 aprile.